Menù speciale. I vostri capelli sono diventati opachi, fragili, cadono e il cuoio capelluto è arrossito ed esquama? Questi sono i sintomi di carenza delle sostanze benefiche che normalmente riceviamo con il cibo. Vi serve un menù speciale per rafforzare di capelli. La dieta consiste nel mangiare per due settimane diversi cereali, carote e cavolo, fri di mare, frut, frutta secca. Un menù prossimativo può essere così strutturato, trova valori nutrizionali. La quantità troppo bassa di calorie assunte durante la giornata di proteine e dei grassi provoca l'assottigliamento dei capelli e al peggioramento del loro stato generale. Perciò le donne devono assumere circa 1800-2200 kcal al giorno. Proteine. Per un normale funzionamento dell'organismo un adulto deve ricevere 1,3-1,4 grammi delle proteine per un chilogrammo di peso. Se si fa all'attività fisica bisogna aumentare fino a 1,5 grammi. Grassi. La norma giornaliera dei grassi assunti è di circa un grammo per un chilogrammo di peso. Se si fa all'attività fisica bisogna aumentare fino a 2 grammi. Carboidrati. Per un funzionamento normale dell'organismo un adulto deve ricevere 3-5 grammi dei carboidrati per un chilogrammo di peso. Vitamine e microelementi. Il cappello umano è fao di proteine, più dell'80% ed ha 15-20%. Naturalmente ci sono anche dei minerali e i melanociti. La cura sbagliata, i vizi, i fattori negativi dell'ambiente. Questo abbassa la quantità degli elementi elencati. Come risultato i capelli diventano porosi, ti si spezzano, crescono più lentamente e i follicoli piliferi si indeboliscono. Per fino ad arrivare alla perdita dei capelli. Così la chioma acquisisce un asto poco bello. Per avere i capelli forti prima di tuo bisogna ricevere una giusta dose di vitamine. Vediamo quali vitamine fanno bene ai capelli. Molte vitamine si assorbono meglio se viene incluso nel vostro menù l'olio. Esso aiuta a trasportare le sostanze beffiche dove è necessario regolando inoltre il bilancio dei grassi. Alimenti per capelli Volete avere i capelli belli, forti e sani? Allora impegnatevi a nutrirli. Non parliamo di maschere e di balsami ma di una quotidiana e bilanciata alimentazione che deve includere necessariamente te e le vitamine, gli aminoacidi e gli altri microelementi. La dieta deve essere fatta in base al problema esistente. Se i capelli non crescono bene o cadono in grandi quantità è consigliato di mangiare più cibi che garantiscono il rinforzamento. Per lo spessore, la lucentezza e l'idratazione dei capelli ci sono altri cibi. Rinforzamento Chi vuole rinforzare i capelli e prevenire la loro caduta deve mangiare bene e controllare i valori nutrizionali del cibo consumato. Per accelerare l'effetto occorre concentrarsi sui seguenti cibi, verdura verde, spinaci, insalata, broccoli. Contribuisce alla produzione del sebo quale balsamo naturale per i capelli. Quando la quantità del sebo è sufficiente i capelli non indeboliscono. Cereali e legumi, grano, mais, lenticchie, fagioli, piselli. Le proteine contenute in questi cibi rinforzano bene i follicoli pipiferi e il fusto. I latticini, la, yogurt, formaggi. Sono ri di calcio e di proteine. Caroter La vitamina contenuta in carote sana è il cuoio capelluto. Se quest'ultimo è sano anche i follicoli piliferi funzionano bene. Accelerazione della ricrescita Per favorire la crescita dei capelli occorre consumare piselli, riso, uova. Questi alimenti sono ri di sostanze nefiche che stimolano la crescita dei capelli. Possono essere accompagnati da frutta e verdura. Favoriscono la crescita, mele, banane, pomodori, cetrioli, cavolo, cipolla, latticini. Il calcio e le proteine sono i materiali di costruzione che accelerano la crescita dei capelli. Carne e pesce È consigliato mangiare almeno due volte alla settimana pollo, tacchino, salmone in quanto contengono vitamine del gruppo B, zinco e ferro. L'insieme favoriscono la crescita. Idratazione per idratare i capelli occorre includere nel menu i cetrioli, le zucchine, gli asparagi, la cipolla, l'aglio, i calamari, i tigamberi. I capelli saranno più elasticizzati, setosi e morbidi se includerete nel menu i brocruti, i stinaci, le carote, i telealbicocchi e le pesche. Questi alimenti contengono sostanze che stimolano la produzione del sebo. Quando il sebo è sufficiente i capelli sono come descritto in precedenza. Non dimenticate le vitamine, vitamine, insalata, legumi, frutta se, normalizza la circolazione sanguigna e garantisce nutrimento al cuoio capelluto. Vitamine del gruppo B Pane integrale, tegrano, pollo, tacchino, uova, pesce, idratano i capelli, ti donano la bellezza e la salute. Vitamina a fegato, albicoac, o livello spinoso, rende i capelli morbidi e setosi. Per assorbimento migliore delle vitamine è importante consumare anche gli oli, semi di lino, semi di girasole, oliva o arachidi. In più fanno bene i grassi di pesci o di frutta secca. Densità è normale perdere circa 150 capelli al giorno. Ma se la quantità è di più bisogna fare attenzione. La riduzione della densità dei capelli può essere causata dagli errori nell'alimentazione. Per correggerla si possono includere gli alimenti come frutta, verdura, carne rossa, fegato, cereali, ecc. Non dimenticate anche la frutta secca e le uova. La frutta secca può essere qualsiasi tutte le tipologie e hanno la biotina, gli antiossidanti e minerali. Per aumentare l'efficacia potete assumere le centrifughe. Per esempio la centrifuga con cetriolo e carota ha non solo aumentato la densità, ma restituisce la lucentezza naturale e la forza. Lucentezza Per restituire la lucentezza occorre consumare la i fermentati, i yogurt, kefir, ecc. In più aiutano a combattere contro la forfora. La condizione principale è combinare l'utilizzo esterno e interno. Le maschere più efficaci, kefir con olio d'oliva, tuorlo, lievito e miele. Le sostanze neffiche contenute in questi alimenti moltiplicano l'effetto a vicenda. Come risultato i follicoli piliferi forti, la pelle sana, i capelli lucidi e setosi. Questa maschera è adatta sia ai capelli grassi che secchi. Escludere dal menu, oltre a includere gli alimenti che fanno bene ai capelli bisogna anche togliere quelli che fanno male. Sono, bevande gassate, e bevande con caffeina. Sigarette e alcol, provocano tantissimi danni ai capelli compromettendo la circolazione sanguigna e di conseguenza la carenza delle sostanze benefiche. Cibi free, conservati, fast food, zero. Essi impediscono alla crescita e al rinforzamento dei capelli. Cibi allergenici. La voglia di ottenere il risultato subito è normale. Però non bisogna abbondare. Infatti non fa bene mangiare troppi cibi anche se sono molto benefici in quanto vengono acquisiti altri problemi. To fa bene a dose. Rispettate questa regola e mangiate sano. Così i vostri capelli saranno sicuramente bellissimi. Così i vostri capelli.